Prima il fotografico, poi faccio un'altra cosa, io saprò che loro fanno i tanti, quindi comincio io. No, no ragazzi, dove c'è? Allora, c'è un cavallo che non va, e il barista dice cos'è questo? Non c'è un cavallo che non va, e il barista dice cos'è questo? Non c'è un cavallo che non va, ma non c'è un cavallo che non va, e il barista dice cos'è questo? Non c'è un cavallo che non va, e il barista dice cos'è questo? Non c'è un cavallo che non va, ma non c'è un cavallo che non va, e il barista dice cos'è questo? Non c'è un cavallo che non va, ma non c'è un cavallo che non va, e il barista dice cos'è questo? Non c'è un cavallo che non va, ma non c'è un cavallo che non va, e il barista dice cos'è questo? Non c'è un cavallo che non va, e il barista dice cos'è questo? Non c'è un cavallo che non va, e il barista dice cos'è questo? Non c'è un cavallo che non va, e il barista dice cos'è questo? Dal cuore delle giornate professionali del cinema, hanno letto di accoglienza appena entrato a destra del filton, un grande alberto che ospita la convention, la 39esima edizione della convention, subito ad accoglierci su due bellissimi modelli dell'Istituto del Vestito tradotti dal Liceo Artistico Grandi di Sorretto, sempre attento e presente, lo abbiamo lasciato ultimamente alla mostra Villa Fiorentina, Villa Falzoletti, sempre accanto agli espositori, ai tanti artisti che hanno votato in quel ciclo di esposizioni, sempre presente e attento a quanto avviene sul territorio. Hanno provato a vestire le live, hanno provato a vestire le artiste, hanno provato a dare con questo saggio, con questi tessuti, con questi disegni, un loro approccio al mondo sia cinematografico sia come un landmark, baccare il territorio con la presenza di questa importantissima scuola di grande tradizione adulta, non solo in Tarsio ma anche in Tessuto.